Quello cibi di Giotto! Mamma mia Guarda! Lui passa! Lui passa! Qua vengono a casa mia e mi suonano i vicini sicuro Oh mio Dio raga! Oh mio Dio! Ho fatto strage! Appugni! Appugni! Buon gente bentornati nel canale! Signori siamo qua in un nuovo video su Black Ops 3 assieme a Mario e... San Pietro Allora gente siamo qui assieme a loro due perché era una cosa mia e dovevamo registrare qualcosa Allora andremo a registrare una sorta di challenge quindi in 5 minuti dovremo riuscire a fare più che il possibile con la pistola Quindi senza Inducio Su Segugio Lo sapevo Andiamo in partita Ok Allora andremo con la granata Passa davanti Passa e non saluta Esatto lo sto per dire io Occio occio Uno e... Due... No! Guarda non ti sparo se sei qui! Signori mancano due minuti e Gianni potrebbe perdere... Perché stai facendo veramente uno schifo incredibile Ma muori! Ma muori! C'era il tipo che si era buggato via saltando Ma hai 50 secondi adesso Per fare più kill possibili Nei due lì Ma ma che pimp L'ho ammazzato uno e sono esploso E sono due kill comunque da levare Oh! Gliel'ho attaccato addosso Tre da levare Ma non roppere Eh ma non vale con lo sparro Ma gli abbiamo detto di farlo con la pistola ma non di togliere anche gli equipaggiamenti 10 secondi per dire da adesso vediamo quante ne fa in 10 secondi 6 5 4 3 2 1 Perfetto Perfetto Ok Va bene 21 21 kill e 12 morti Oh scrivetelo il techo Ciappa sul techo Perfetto Dio caro te che scaldai Cuffi e vivo Manca muoia il joystick Quante ne faccio secondo voi? Dio dico so tra 25 Io punto alle 45 kill Ma non correva perché io sono abitato perché quando premi corre per sempre E invece di tenere premuto e mi faccia male Oh! Prima Con la pipistola Diugano sta a caricare imbecille Eh no, è con cosa spara col G Dio Eh guarda 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 che doce GAHPYONTABIONTABIONTABIONTABIONTABIONTABIONTABIONTAAAABIONTABIONT Con la kill Enbshaut ragazzi Eccolo 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 Cortata corta scorta Bravissimo Eh no ba io mi sto rendendo conto che forse 45 kill sono un po troppe non muore ok è morto adesso dai obocro guarda questo bella fra l'altro posto Dio bono Dio puf offupoid easy pro dai in seminio d'untoso guarda guarda si pie punta che una granata dicope sshh è deficiente guarda qua come si usa uno sparro eccolo eccolo guarda che prima le avessi due nel cu questo corpo mi usa lo sparro guarda qua quanti sei quanti ma non caricare ora punta che una granata in te culo uri 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 bemm bemm dai quanti kill sono vediamo 15 solo sono pochi vieni qua deficiente dove cazzo è oh mio dio raga ho fatto strage dai 23 kill 11 morti ho già perso poi a cane bella fra diuga ok dietro il buco di cià fa il scingano cià fa la galena cià fa la galena cià fa il scingano appugni 33 kill raga 33 33 ooo 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 ok madonna ho fatto una bella strada ma cazzotti questo qua il mio guardalo 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 mamma mia troppo forte ma smetti ok ma ma che ooo 33 kill 12 morti signori è il turno dedicato comunque puoi commentare se vuoi il microfono lo tengo io ciappio ciappio guarda i sette nani che ieri ho ciocio non credo però fa ridere quindi è ok ok ho ciocio ma sta a mirare che ciccio oddio non ti devi copare formiga parterra oh yeah ciao stai facendo troppo schifo più schifo di me e ce ne vuole cazzo guarda gli sei in quattro dentro coppio ma vero che cosa che lo scappa oh se schiacci questi due hai l'arco ma che vai ok dalle ok ma che cazzo è un vidocro di lampione è meglio che grande poi disponibile l'arco oh cio ti ha persato a fianco dai non ci credo l'altro in tetra la macchina ma dai hai 30 secondi non sei messo tanto bene quelle kill credo eh bella bella rega sto tornando a merda ciao dai sei cinque quattro tre due uno buon anno e finisce qua oh 27 ho perso un'altra volta 27 13 signori il video finisce qua allora ho vinto io come già immaginavo e quindi secondo post per riccardo ultimo ovviamente si sapeva signori andate nel loro canale trovate sotto in descrizione iscrivetevi ci vediamo in questo video su un like un commento condivido e ci vediamo BANDA BANDA